Cimair ha rancato in welter la sfida della costa in middleweight, quindi penso che prima della title shot in middleweight dovrebbe passare un po'. In realtà, secondo me, questo lo dico molto molto sinceramente, secondo me in caso di vittoria di Cimair contro Paolo Costa, Cimair potrebbe tranquillamente avere subito la title shot nei pesi medi, a seconda anche delle tempistiche, o magari un title eliminator davvero contro Duplessis o contro Cannonier o nomi di questo tipo. Questo per l'hype che porta dietro? Voi pensate ragazzi davvero, da rifletterci un attimo questo, quanto si è parlato di Hamza Cimair nell'ultimo periodo e non combatte dal 10 settembre? Sarà passato più di un anno dal suo ultimo match quando, se andrà così, rientrerà nell'ottagono contro Paolo Costa ad Abu Dhabi? E pensate quanto si è parlato di lui e non si sapeva manco in che divisione avrebbe combattuto. Questo è l'hype che porta e che genera Cimair. Dana White ha detto che le due domande che più gli arrivano in questo momento, sia lui che in generale i vertici della UFC, è, prima, quando combatterà Conor McGregor? Quando torna? Si fa il match con Chandler? Due, quando torna Hamza Cimair? Poi, che sia vero o no, non lo sappiamo, però è verosimile. È possibilissimo. È davvero quanto se ne è parlato. Cioè, quasi io stavo male a fare video su video su Cimair quando c'erano novità, perché comunque è fastidioso vedere uno che su Twitter ha già sfidato e affrontato tutti, e invece poi non combatte da un anno per quando tornerà nell'ottagono. Però davvero, voi pensate senza che combattesse, senza che si sapesse la divisione, senza che ci fosse mai nulla di concreto quanto si è parlato di Cimair. Se batterà Paolo Costa, che comunque, a livello di nome, non parlo adesso a livello di risultati, ma a livello di nome, è un nome top nella middleweight division, e comunque il Paolo Costa al top in realtà è un avversario pericoloso per chiunque, con una vittoria su Paolo Costa, Hamza Cimair secondo me potrebbe avere una title shot. Non è detto che ce l'abbia, ma potrebbe. O comunque almeno un title eliminator. Il percorso di Cimair è inutile prenderci in giro, come succede in tanti casi ormai, il percorso di Cimair non sarà come quello di chiunque altro in un cambio di divisione. Già in generale quando sei al top di una divisione e cambi per salire o per scendere, ti porti un po' di hype dietro. In questo caso, poi manco a parlarne, il percorso di Cimair verso un ipotetica title shot nei pesi medi sarà piuttosto breve, se riuscirà a vincere ovviamente. Poi che sia giusto o meno, ognuno ha la sua opinione e da un punto di vista di meriti, non sarebbe giusto. Però siamo nel 2023 e recriminare alla UFC che non prenda determinate decisioni sulla base soltanto del merito sportivo è un po' obsoleta come critica, nel senso che ormai lo sappiamo come funziona. Sì, ma come mai Cimair è stato fermo così tanto? Ha avuto infortuni o cosa? C'è qualcosa che non ci è stato detto sicuramente, che fosse per questioni di infortuni, questioni di problemi di altro tipo, si è parlato di problemi di visto e anche secondo me a un certo punto è stato un discorso di ok, adesso siamo arrivati a questo punto, non rischiamo casini vari, facciamolo combattere direttamente ad Abu Dhabi che comunque erano una card in cui volevano piazzarlo. Quindi, cose che non ci hanno detto, nel mentre c'è stato credo a Madan come sottolinea anche Tullo Ale in chat quindi tante cose e poi però ad un certo punto secondo me la UFC, quando magari Cimair era pronto per combattere a luglio e lui aveva chiesto di combattere a luglio anche se lui aveva chiesto di combattere in ogni mese dell'anno magari Cimair sarebbe stato pronto per luglio o per agosto, però a quel punto la UFC ha detto no, tu combatti ad Abu Dhabi adesso in ogni caso nel mezzo c'è stato qualcosa che non ci hanno detto